Benvenuti a tutti! Ancora una settimana prima delle mie vacanze, per cui facciamo qualche altro video confronto. Come stanno andando le vostre vacanze? Siete già in vacanza oppure anche voi state aspettando di andare in vacanze come me? È dura aspettare soprattutto l'ultima settimana prima delle vacanze, tra l'altro qui il tempo non è un granché. Continua a piovere da mesi ormai, per cui l'estate qui in Austria non è stata bellissima quest'anno. E voi dove vi trovate è stata piovosa oppure insomma suareggiata? Fatemi sapere nei commenti qui sotto. Oggi vedremo insieme un confronto tra due bellissime scarpe, la Arsitu dell'Avidas e la Epilion Tempo dell'Avidas. Siamo ad iniziare con il video, giusto un breve disclaimer. Queste sono scarpe che ho comprato di tasca mia, per cui nessuno mi ha curato per questa review. E queste sono le mie personali. I tempi delle scarpe sono neutre, molto leggere. L'Arsitu pesa 213 grammi nella versione maschile, nella mia misura che è una taglia 44. L'Avidas e la Epilion Tempo pesa circa 221 grammi, sempre una taglia 44. Quindi l'Arsitu è un po' più leggere dell'Avidas e la Epilion Tempo. Infatti l'Arsitu è alta 24 mm nell'area del talone e 14 mm nell'area dell'avampiede, mentre la Epilion Tempo 28 mm nell'area del talone con 20 mm nell'area dell'avampiede. Per una differenza di circa 4 mm nell'area del talone e 6 mm nell'area dell'avampiede. Per cui la Arsitu usa meno schiuma rispetto all'Avidas. Relativamente alla suola, l'Arsitu non usa la mescola usata dalla SL20, cioè la Continental, che è una gomma che comunque offre un buon grip su diversi suffici di allenamento, come abbiamo già visto nelle altre recensioni. L'ho provata sull'asfalto e sul bagnato e garantisce un buon grip. Mentre la Epilion Tempo usa una suola in gomma molto dura e resistente, ma con un grip che sul bagnato non è paragonabile al grip dell'Arsitu. Trempe le suole mi sembrano abbastanza resistenti, anche se quella dell'Aipilion Tempo mi sembra un po' più dura e probabilmente più resistente. Passando all'intersuola, l'Arsitu usa la nuova tecnologia Light Strike, abbiamo già parlato di questa schiuma in diversi video, che garantisce sicuramente una buona ammortizzazione e reattività ed è anche più leggera rispetto alla classica boost. Utilizza Zaldas nelle altre modelle e favorisce una transizione del piede molto veloce in fase di rullata, senza rinunciare proprio al controllo. La Epilion Tempo usa invece la nuova ammortizzazione di N-Hail Clash, che conferisce alla causatura una certa leggerezza e reattività, ma anche un'ottima fluidità, devo dire, durante la fase di rinunciazione del lavoro, che la cambia ad essere utile per abbassare i tempi di recupero, specialmente dopo allenamenti intensi. Con la Light Strike ho fatto circa 70 km ed è ovviamente ancora come nuova. Con la Epilion Tempo ho appena fatto circa 50 km, per cui non mi sento ancora di poter giudicare. Tra le due intersuola in termini di ritorno di energia durante gli allenamenti di interval training, sicuramente la DNA Flash dell'Aipilion Tempo l'ho trovata superiore. L'energia restituita in fase di spinta si sente davvero molto. In termini invece di versatilità mi sono trovato meglio con la Light Strike, in quanto anche a ritmi più lenti mi ha garantito un comfort migliore che la Epilion Tempo, che non è affatto confortevole ai tempi di ritorno. Inoltre la R-C2 la preferisco di più rispetto alla Epilion Tempo per allenamenti in pista, in quanto a tanto tempo dello scopo. Relativamente al sistema di torsione, il sistema di torsione è molto leggero nella R-C2 e funziona molto bene in termini di stabilità, anche in curva, è dovuto al fatto che si estende anche sull'area della R-C2. Sull'Aipilion Tempo invece non è presente alcun sistema di torsione e questo ci sente molto in termini di stabilità, soprattutto se confrontata con la R-C2. Per cui se state cercando una scarpa stabile, l'Aipilion Tempo non è la scarpa che è superata per uomo. Per quanto riguarda la superficie del tallone, più o meno si equivalgono, entrambe si estendono per una larghezza di circa 8 cm, ma l'Aipilion Tempo, essendo più alta, avendo più schiuma, garantisce un miglior comfort. L'appoggio del tallone con la R-C2 non è proprio un'esperienza che definirei confortevole. Sulla parte posteriore del tallone, entrambe le scarpe, sono una superficie protettiva molto comoda, che non rega alcun fastidio, anzi ne appavorisce il comfort. Passando alla Tomae, entrambe le Tomae sono davvero molto leggere, anche durante giornate molto calde, il piede respira molto bene. Per quanto riguarda la calzabilità, entrambe le Tomae calzano molto bene, ma con quella dell'Arcy2 mi sono trovato meglio, in quanto non è elastica e per cui mi garantisce una migliore stabilità, soprattutto in curva o a ritmi più veloci. Passando al prezzo, il rapporto qualità-prezzo è ottimo nella R-C2, che si può trovare sul mercato con un prezzo di intorno agli 80-90€, ed è buono nella Hyperion Tempo, che si può trovare sul mercato disponibile a un prezzo di intorno agli 130€, ci danno anche l'innovazione dell'intensual DNA Flash, costruita con il nuovo sistema di confusione di azonda. Relativamente alla durata, direi che entrambe le scarpe sono abbastanza minimal e leggere, per cui non c'è da aspettarsi tanto in termini di durata per entrambe le scarpe, però ho comunque la sensazione che la Tomae della Hyperion Tempo mi lascerà prima di quella dell'Arcy2. I lacci sono della misura giusta in entrambe le scarpe, tradizionali nell'Arcy2, elastici nell'Arcy2, ed il sistema di fissaggio funziona molto bene nell'Arcy2, un po' meno bene nell'Arcy2, in tempo, dovuto al fatto che i lacci sono elastici. L'estetica è molto bella, le colorazioni disponibili sono belle per entrambe i modelli, al design dell'Arcy2 in tempo mi piace un po' di più rispetto a quello dell'Arcy2. In generale, per quanto riguarda la calzabilità della scarpa, piace di più l'Arcy2, quando nella mia misura standard calza molto bene, per l'Arcy2 in tempo ho dovuto prendere una misura in più, e ho come la sensazione che sia, anche se di poco, un po' fondale. Le linguette sono differenti, comunque entrambe tradizionali, non a soffietto, tra le due quella dell'Arcy2 è più leggera, usa una leggerissima imbottitura che garantisce un buon comfort proteggendo il colo del zio. E' imbottitura migliore nella linguetta dell'Arcy2, che garantisce un miglior comfort, ma sicuramente più pesante e meno raspirante di quella dell'Arcy2, tra le due comunque preferisco quella dell'Arcy2 in quanto più confortevole. Se dovessi consigliare queste scarpe, ovviamente l'Arcy2 in tempo la consiglierei per run di livello intermedio, veloci e non troppo pesanti. In allenamento la utilizzerei per interval training, o per allenamenti comunque veloci, ovviamente sotto i 4 minuti e 30 km. Per le gare direi che è molto versatile, infatti la utilizzerei per una 5 km, una 10 km, una mezza maratona, e poi ovviamente anche per una maratona. L'Arcy2 è una scalpa che mi sento di consigliare a run di livello intermedio, soprattutto per allenamenti veloci, adatta anche per me. Per le gare la utilizzerei a partire da una 5 km, fino alla mezza maratona, ma non per l'anno. Per cui concludendo, entrambe le scarpe sono molto leggere, e tra le due per allenamenti in pista più corti, sceglierei sicuramente l'Arcy2, tra elementi veloci e più lunghi, sceglierei più in un tempo grazie alla sua intersuola. Detto questo direi che è tutto, ci vediamo al prossimo video e vi auguro a tutti un buon prossimo video. Ciao!